Niente, ma mi è successa una cosa. Grave? Un bel po'. Eh, che avete combinato? Mamma, che casino, eh! Mi siete rovinati la vita! Sì, dovete rinunciare a tutti! Ma quale marocco? Cioè, ci sono tutti che ci stanno dicendo state a fare una cazzata, state a fare una cazzata! Ma che cosa? È incinta. In effetti, forse stiamo a fare una cazzata. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma che hai fatto? In questa piscinetta. Non bisogna tenercelo per forza. Ma lei ne poteva trovare meglio. Hai preso un criceto, l'ha fatto muoio dopo due settimane. Ma senti questo col criceto? Ma voi metti in figlio con un criceto? A punta! Non so, forse ora è il momento che un pochino ci dovremmo agitare. Andiamo a portarlo in casa, da noi, sopra. Brava, aiutiamoli. Qua se c'è qualcuno che non sa ma come mette sempre riserva di voi, quello è il vostro figlio. Lo sapete che siamo in questa condizione? Perché siamo in questa condizione? Perché te a questo figliolo con un'irazzata paceva? E parliamo, ne sediamoci intorno al tavolino. Tanto solo tu non sbagli mai, eh? Magari se non sbagliamo mai. Se tu mi provi di morto e mi dici, babbo, guarda, ammazza. Io vò sotto una macchina, sotto un camion, sotto un treno. Ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ma ti frega o no qualcosa di questa ragazzina? Ma stai scherzando? Ma certo che mi freghi io tutto questo lo sta a fare per lei e per te. Adesso vi faccio vedere il cuore. Senti? Lo sento, Sio, ma che sta a fare là dentro? Ma è che sta a correre? Bravolo! Sempre a far cazzone, dalla mattina alla sera. Poi ti succede una cosa che non ti aspetti, e ciò, hai capito che la vita è breve? Ma che cazzo sta a fare? Ma che cazzo sta a fare? C'è deve avere un nome che è tipo una parola magica. Deve essere leggera, deve fluttuare, deve essere tipo... tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. E la prossima volta, se succede qualcosa, a me mi dici sono le cazzate. Grazie a tutti.